Alleluia, alleluia, tre punti in trasferta che abbiamo presi, finalmente! Oh ragazzi è stata un'agonia, è stata un'agonia, finalmente tre punti in trasferta Ci mancavano da settembre, ci mancavano dalla partita con il Sassuolo Ma gli abbiamo presi, finalmente tre punti in trasferta E' un'emozione, è un'emozione incredibile E' incredibile e sono contento il doppio Sono contento il doppio perché questi tre punti in trasferta sono tornati con i Doriani E sono contento, cazzo! Godo doppio e godo triplo sapendo che Pratt, uno dei migliori centrocampisti che abbiamo avuto Fino a me, negli ultimi anni, ha fatto due gol in stagione entrambi contro di loro E ci godo il triplo, ci godo il triplo ragazzi Che dire, che dire, finalmente abbiamo mostrato le palle in trasferta Abbiamo saputo portarci a casa tre punti che erano d'oro Ci servivano come il pane questi tre punti Servivano, dovevamo mantenere la posizione alla sinistra della classifica E l'abbiamo mantenuta, ora siamo a meno quattro punti dalla Roma Anzi, sì, no, meno uno Meno uno, ma la Roma deve ancora giocare oggi, quindi Per ora siamo a meno uno, vediamo la Roma cosa farà Siamo... Siamo lì, abbiamo... Ci siamo portati a casa questa vittoria che era importantissima Era importantissima Era importantissima Adesso spero che le partite in trasferta siano sempre così Spero che almeno si portino a casa punti Si portino a casa punti dalle partite in trasferta adesso Adesso non è che abbiamo cominciato a fare punti in trasferta Dobbiamo smettere di farli in casa No, bisognerebbe farli in entrambi i casi Abbiamo ottenuto due vittorie consecutive È una cosa ottima, una cosa eccellente E possiamo finalmente dirci tranquilli Possiamo finalmente dirci tranquilli Sono due stagioni Sono due stagioni di fila Che rasentavamo il fondo della classifica Due stagioni di fila che Soffrivamo le pene nell'inferno Avevo il fegato Il fegato che si stava ribaltando su se stesso Che si stava attorcigliando dallo schifo Che si vedeva Che si vedeva in campo Finalmente una squadra composta Decisa E che ha saputo farsi valere Che ha saputo farsi valere Soprattutto questo Soprattutto questo ragazzi Le abbiamo sovrastati in tutto Le abbiamo sovrastati in tutto All'andata All'andata Si siano presi un bel 3-0 Non ci hanno capito un cazzo Non ci hanno capito Non ci hanno letteralmente capito un cazzo Quando Caputo ha segnato Ho detto porca troia Porca troia È la solita storia E invece no E invece no Stiamo trovando Sono due partite Che stiamo trovando Un Voivoda Informissima Che sono due partite Che trovo Gol di Singo Assis di Voivoda E io godo E io ci godo Cazzo E io ci godo Non tanto perché ho singo al fantacalcio Ma Anche per quello Ma per il fatto che Finalmente Finalmente Yuri ci ha messo Una cazzo di impronta Ha messo la sua cazzo Si vede la sua cazzo di impronta Giocatori che l'anno scorso Insultavo tutto il tempo Ve di Voivoda Adesso Adesso cazzo sto facendo il fenomeno Sono due partite di fila Che fa il fenomeno Adesso non è che deve smettere Perché gli sta facendo i complimenti Però Sarebbe Gradito Continuare Su questa strada Sarebbe gradito Continuare A cercare di prendersi tre punti Sempre Sempre In qualunque modo Cercare di prendersi tre punti Sarebbe gradito Come cosa Detto questo Mi sconcertano le parole di D'Aversa Mi sconcertano le parole di D'Aversa Che Ha definito le occasioni Della Sampdoria di ieri Le migliori della partita Fossero state le migliori della partita Pensate che avrebbero vinto loro Non Invece no Invece no Abbiamo vinto noi Abbiamo sovrastati in tutto Siamo riusciti a Siamo riusciti a portarci a casa A questa vittoria Siamo portati a casa Una vittoria Importantissima Importantissima Ora Testa Alla prossima partita Che non mi ricordo Con chi cazzo giochiamo Con chi minchia giochiamo Testa al Sassuolo Giochiamo con il Sassuolo Testa al Sassuolo Ragazzi Ok Mi raccomando Dai